L'assenza delle istituzioni non ci demoralizza, andremo avanti nella nostra battaglia. Arriva chiaro il messaggio delle associazioni che puntano dritta ad una grande mobilitazione davanti al Parlamento per dire no all'accorpamento delle province e dalla conseguente perdita dello status di capoluogo per Frosinone. Dopo una prima riunione organizzativa i sodalizi cercano l'unità, occorre compattezza. Questa è la parola d'ordine in vista della manifestazione alla quale tutti sono invitati a partecipare. La data non è ancora stata stabilita, le associazioni si riuniranno di nuovo lunedì prossimo. Noi ci siamo mobilitati come consulta e come associazioni dal capoluogo perché la posta in gioco è molto alta. Non si tratta solo di perdere i posti di lavoro delle amministrazioni pubbliche che saranno trasferite nel luogo capoluogo. Ma si tratta di una cosa molto più seria e grave perché ci vengono a mancare gli strumenti, i consessi, i punti di riferimento per iniziare un'azione di recupero e di rilancio dell'economia e del territorio e quindi anche della qualità della vita. Noi ce la stiamo mettendo tutta come associazioni, stiamo proponendo, ci stiamo proponendo e chiaramente non dipende solo da noi. Se le forze politiche, i consigli comunali di tutta la provincia e il consiglio comunale provinciale, i sindaci, non si mobilitano loro. Noi più che invitarli non sappiamo più cosa fare. Abbiamo invitato i sindacati, vorremmo la partecipazione di tutte le forze che hanno spessore e che possono urlare davanti al Parlamento prima che diventi legge quello schifo che hanno combinato e fare una protesta forte, farci sentire. Ma ripeto, dipenderà da quello che vorranno fare e quelli che parteciperanno a questo movimento. Non possiamo assolutamente essere favorevoli a questo accorpamento che va a penalizzare proprio chi un'identità storica ce l'ha ben precisa e connotata a favore di invece un'identità storica che è andata nascendo da poco tempo. A prescindere da questo, a prescindere dal ritorno economico sul territorio che sarà terrificante, non è possibile. Io credo che comunque non si andrà a fare come cosa. È giusto essere qui, è giusto provare e dirglielo a gran voce con una manifestazione, con la presenza quotidiana che non si fa. Ma secondo me non si farà perché è un errore talmente tanto grande che prima o poi si renderanno conto e si fermeranno. O li fermeranno i politici locali che magari stanno latitando ma poi quando in Parlamento dovranno apporre un sì dovranno poi rendere conto a tutto il territorio che l'ha scelta e quindi si arriverà a non farla perché è una bufala, è un errore troppo grande per essere fatto.